Oggi Rossini TV si trova in un posto davvero particolare. Alla mia destra lo sguardo si perde da Gabicce Mare a Riccione a Rimini fino a Ravenna nelle giornate particolarmente limpide di sole. Alla mia sinistra c'è la magnificenza del colle San Bartolo. Davanti a me tutte le altre colline pesaresi e non solo che si perdono da San Marino fino allo sguardo bellissimo sul castello di Gradara. E alle mie spalle tutta l'ampiezza del mare Adriatico. Davvero meraviglioso in una giornata come questa. Siamo all'Eden Rock di Gabicce Monte. Eden Rock che è stato uno storico locale da ballo della provincia. Lo è stato fino al 2010. Dopodiché ha avuto un percorso diverso. È stato prestato a cerimonie, iniziative, matrimoni. Ma in maniera più sporadica da quest'anno si struttura in maniera più forte con la proprietà storica che ha trovato un accordo con un'azienda di servizi di Morciano. E dunque diventa un luogo che è ripartito alla grande con le cerimonie, con i matrimoni. Un luogo davvero particolare perché siamo sul punto più alto dell'Adriatico. Davvero il punto più alto a ridosso della costa adriatica. Uno sguardo davvero bellissimo su tutta la magnificenza delle nostre terre. È un posto che viene davvero rivalutato e rivalorizzato con questa nuova gestione. Dalla splendida vista delle terrazze esterne si entra poi in quattro piani di una struttura in cui si respira l'atmosfera vintage di un locale storico per la riviera di anni 80 e 90 divisi fra discoteca, aree di ristorazione, bar e la cosiddetta cigar room. Ambienti ampi per tanti metri quadrati che non intendono più essere una cattedrale nel deserto ma un luogo desideroso di riprendere vigore. Un luogo che da qualche settimana è diventato ancora più affascinante dopo la rimozione della gru dell'ex Mare Chiaro che da oltre un decennio ostruiva parte del panorama. E dunque Eden Rock che rilancia se stesso ma non solo. La struttura è anche pronta a dare un assist alle esigenze di ricettività turistica del territorio di Gabicce Monte. Territorio che ad esempio vive una strutturale e problematica carenza di parcheggi. Noi ad esempio ci troviamo nel parcheggio della struttura Eden Rock dove sono ricavabili 45 posti auto sul quale c'è una tematica sul quale c'è un discorso in itinere tra la proprietà della struttura e l'amministrazione comunale per provare a destinare anche quest'area di parcheggio nei giorni naturalmente in cui non sono presenti eventi o cerimoni, destinarli appunto alle esigenze di parcheggio del borgo di Gabicce Monte.